Benvenuti sul canale PG Passoni Games, controlliamo se il microfono è quello giusto, mi sa che non si può fare, mi sa di no, si il microfono è quello giusto, ragazzi benvenuti in questo weekly di nuovo con la telecamera, o meglio con l'applicazione della webcam, la Logitech, di cui tra le altre cose, un diverso tempo fa, una mia analisi particolare, parliamo in termini molto, intanto ragazzi vedete lo sfondo che c'è, non è un troiaio, questo qui non è un troiaio, la caffesa bucata, i capelli su quelli sono, dicevo qui è il volante, il volante che sarà credo, spero, protagonista di qualche video con il sottoscritto al volante di qualche bolide in qualche gioco dedicato, ad esempio Formula 1, anche se è molto difficile, ma molto più probabile con il buon Horizon, forza Horizon che, appunto il titolo numero 5, che dovrebbe a breve avere anche l'aggiornamento, non so se quando sto registrando questo video, o quando lo vedete, c'è già l'aggiornamento quello ambientato, è una sorta di DLC dedicato al rally, non lo so, comunque lo faremo, lo faremo e magari lo posteremo nel giorno dedicato allo scopriamo. E' stata una settimana un po' particolare, ragazzi siamo riusciti ad andare tutti i giorni in, in, come dire, siamo riusciti ad andare tutti i giorni in, con un video, quindi non da chiamiamolo così e non prenderci il vizio, ragazzi, è veramente per me una cosa molto difficile essere presente tutta la settimana con un video al giorno, addirittura ieri due video, ma non potevo mancare l'episodio di football che si ripeterà, quindi siamo entrati in campo, domani invece faremo l'analisi della settimana e durante la settimana rientreremo in campo, io ovviamente farò delle partite dell'intermedio, non vi farò vedere la mia scalata, scalata, scalata la parola, però non vi farò vedere, diciamo, tutto il mio percorso durante, durante appunto l'ascesa dalla nona a, boh, a quando, non lo so. Ehm, quindi, è stata appunto una settimana, ora poi lo vedremo un pezzettino di quel video, tanto questi weekly per ora li organizzerò così, cioè mentre faccio una laccherata si guarda insieme quello che è successo durante, durante la settimana. Ehm, siamo ripartiti e ringrazio tutti, come sempre, gli affascination della carriera del Como, siamo ripartiti con la terza stagione, abbiamo fatto un po' di cartomercato, c'è stato un po' di asino, avete visto, sostanzialmente, ci sono stati degli addi abbastanza eccellenti, il primus è gnotto, che non me l'aspettavo sinceramente, però insomma sono arrivati altri giocatori, abbiamo fatto i primi quattro punti della stagione, nel secondo episodio è andato meglio il primo, visto che è piaciuto più il primo, ma beh, va comunque, va comunque bene, insomma, visualizzazioni sempre nell'ordine del canale, ottimi, soprattutto la puntata di martedì, con quasi 100 visualizzazioni, ripeto, per alcuni 100 visualizzazioni sono fischi, ma per la realtà del canale. Ecco, quello che chiedo però è che, e ho notato, ma è quasi sempre così, chi vede il video, magari, clicchi anche sul, oltre che mi piace, che è categorico ed è necessario, anche all'iscrizione, così riusciamo magari a superare intanto la barriera di 700 iscritti e arriviamo magari ai mille famosi. Ma andiamoci subito a vedere, a vedere come si è sempre fatto, eccoci, andiamoci subito a vedere. Questa è, diamoli la via, questa appunto era l'inizio della terza stagione, dove io ragionavo. Ora, a proposito, mi scuso, mi scuso con il pubblico che ha visto l'episodio di sabato, perché oggettivamente ho sentito, o non sono riuscito a togliere l'audio dal mio contrapposto, quello che sta ragionando ora, e quindi c'è stata un'accozzovaglia di suoni e mi dispiace. Quindi, io spero ora di aver risorto, ho tolto l'audio, quindi in teoria dovrebbe essere andato un po' meglio. Quindi, dicevo appunto, siamo stati protagonisti, questo è l'episodio del calciomercato, andiamo un pochino alla, così, alla sustra, dove praticamente abbiamo perso davanti Gnotto, ora qui in questo episodio non l'abbiamo perso, l'abbiamo perso quello dopo, ora poi lo vedremo. Abbiamo perso anche Blanco, Blanco l'abbiamo perso, che ci ha lasciato, quindi, e poi abbiamo perso Reina, il portiere. Questi sono i tre punti cardini che ci hanno dato la promozione in Serie A, e l'abbiamo persi. Ce ne siamo fatti, ovviamente, una ragione, non è che siamo stappati, ma quello che poi dopo, sostanzialmente, non ho capito perché è successo, ovvero l'avvio di Gnotto, è stato quasi un fulmine a Celsereno, perché, di fatto, lo stesso Gnotto aveva prolungato il contratto. E quindi, invece, poi, c'è stata la recessione con il pagamento della clausola, che, meno male, l'abbiamo portata a 7 milioni, se non sbaglio, ma, insomma, Gnotto valeva decisamente di più, visto la sua prospettiva, sempre 21 anni, ma poi, soprattutto, l'ottimo campionato che ha fatto, diciamo, la stagione precedente, lasciando perdere quelle 10-11 partite in cui era un fantasma in campo, però, all'ultime due partite, di fatto, che ci hanno poi permesso di essere primi e vincere il campionato di Serie B, ce l'ha fatta vincere lui. Va bene, niente cambia, abbiamo preso Cisse, un altro giocatore di prospettiva, da il Pisa, un ex giocatore dell'Atalanta, se non sbaglio, e quindi un giocatore in prospettiva che potrebbe diventare il nuovo Gnotto, e poi, intanto, andiamo avanti, vedete, qui, saltiamo un po' di cose, vediamole, qui ci sono tutta una serie di, anche i Bolghini, abbiamo dato un po' di fiducia a Bolghini, ma, di fatto, non ci siamo, o non ci siamo, e li abbiamo preso in alternativa, un altro portiere, però questo è successo nel secondo episodio. Andiamoci a vedere, poi, scorriamo un pochino l'episodio, perché se no non deve essere, ovviamente, diciamo, ho incentrato questo inizio, con questo episodio, e poi, con il secondo episodio, con il secondo episodio, e tanto qui siamo nella schermata, no? Con il secondo episodio, andiamo sul nostro canale, con il secondo episodio, questo, il calciomercato è finito, finalmente, e si è incominciato a giocare. Abbiamo giocato, abbiamo vinto, abbiamo paraggetto la prima partita contro la Lazio, inizio un po' traballante, poi, però, in finale, siamo riusciti a fare, intanto, vediamoci la formazione, ecco, questa è la formazione, che è la nostra formazione, blocchiamolo, la nostra formazione, vedete, c'è Cisse e Flecce, Flecce, anche lui era in odore di recessione del contratto, invece, poi, l'abbiamo sistemato, ed è rimasta, almeno per quest'anno. Abbiamo preso un certo cantè sulla fascia, che non è il cantè, quello del Censi, ovviamente, ma è un esterno, abbastanza veloce, non ha un gran passaggio, ma, insomma, noi ci sarei di correre, poi, magari, l'appoggi alla Corrente Cisse o a Bellemo. Bellemo, quest'anno, insieme a Costa, avrà il compito, molto più importante, di fare, un po' da, diciamo, da collegamento, anche a Costa, ma soprattutto a Bellemo, tra il centrocampo e la difesa, quest'anno non ci sarà, appunto, Fabregas, qualcuno dirà, meno male, però, tutto sommato, con la cura che gli dette il buon Gabriele, che salutiamo, insomma, Fabregas, il suo, nella seconda stagione, l'ha fatta. Ecco, scorriamo velocemente, alcune fasi della partita, siamo in Serie A, quindi c'è il discorso dei bambini, che, sapete, non ci sono, questa è solo una, tra virgolette, chicca della next gen, sulla decennia, non è niente di particolare, però, ovviamente, rientra sempre in quelle cose in più, che ci dà il buon, il buon FIFA. e quindi siamo, siamo riusciti a uscire indenni dal, intanto vediamoci qualche immagine, veloce, siamo riusciti indenni dal, tanto è buffo io come, sempre buffo quando mi guardo, dall'altra parte, tutto molto concentrato, e qui siamo sotto, 1 a 0, però il Las, sì, lascoli, scusate, sono sempre rimasto alla Serie B, la Lazio, oggettivamente, è stata, è stata forte, i primi 50, 55 minuti, ha perso colpi, nella, nella, nella seconda parte, nel finale, della, della partita, e noi siamo riusciti, in qualche modo, le nostre cose, ce l'abbiamo avuto, Flecciere un pochino sotto tono, bene ci si, ma insomma, il club poi l'abbiamo avuto, nella seconda partita, quella contro il, giriamola, contro la, quindi la prima partita in casa, contro la Sampdoria, dove, di fatto, siamo riusciti a vincere, e a convincere, in gol, se non sbaglio, proprio ci si, vediamo un attimino, qui, continui, no, questo ancora niente, qui, intanto, i primi brividi, che la, la Sampdoria, ci ha, ci ha fatto correre, intanto, il nostro, mister Gattuso, non si è più levato, quella maglia, io ho messo, le pantone, quella maglia, poi, magari lo cambierò, però insomma, perché, è un'estate, insomma, è sempre stato un magliettina, vabbè, sono delle accortezze, non sono riuscito a togliere cartelloni, di, del Real Madrid, questo, eccolo, questo è il gol, il gol di, Cissé, questo è il gol di Cissé, bellissimo, Cissé che ci porta in vantaggio, al 26esimo, è il primo gol del Como, in Serie A, ma soprattutto, è il primo gol anche di Cissé, che dovrebbe essere, vede, il Real Madrid, ragazzi, io non riesco a toglierlo, magari se qualcuno me lo, me lo suggerisce, dove cavolo, lo trovo per toglierci, metterò in Como, bello questo inserimento, è bello anche questa conclusione, 1 a 0, poi, dopo, c'è stato, un proseguo, un proseguo, della, della situazione, che dire, poi, è stata la settimana, ovviamente, lasciando un pochino, da una parte, la, la, la serie di, Mafia 3, che sta andando bene, sempre, ovviamente, attinente ai numeri del canale, è stata la settimana, del, day one, di, eh, The Show 23, cioè, il gioco dedicato al baseball, uscito, proprio, in, eh, in contemporanea, eh, all'uscita del, su, 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 diciamo, i negozi, su, di scaffare i negozi, anche al, su Game Pass, grazie all'accordo, che gli è, tra, appunto, Microsoft e, IE, e noi non possiamo, non potevamo mancare all'appuntamento, e andiamoci a caricare il video, così ce lo vediamo due secondi, giusto per vedere, ecco, questo è un estratto della, eh, un estratto, appunto, della, della, nostra, eh, partitella, è, è un gioco, molto simile, devo essere sincero, l'ho trovato molto simile, molto simile a quello che era il, il titolo 2022, eh, qualche accortezza a livello grafico, c'è, però forse, ma questo, io chiedo, venia, perché non sono un grande giocatore di questo games, eh, forse c'è un qualche migliorire a livello di, del game proprio, cioè, del gioco, a livello grafico, perdonatemi, ripeto, se Dio, uno strafarcione, non ho visto grosse differenze, eh, rispondendo un pochino a quello che è stato il commento, ad esempio, di Gabriele, che ripeto, ringrazio perché commenta sempre, è vero, questo gioco, è un gioco più prettamente americano, cioè, in America, ragazzi, questo è anche il gioco dedicato al, all'occhio sul ghiaccio, vanno per la maggiore, vanno più anche di, dello stesso FIFA, ovviamente il baseball non è il gioco nostro, non è il gioco nostro nazionale, ma è il gioco, è prettamente americano, e quindi, eh, magari deve piacere per poter, per poter, così goderselo, lo stesso video, io da, tra virgolette amante, relativamente amante del, del gioco del diamante, così come lo chiamano il baseball, devo dire che, i movimenti e, eh, praticamente, e la, le azioni, sono, intanto, visto che si sta, intanto, mi va fuori fuoco, ragazzi, Logitech, ottima macchinetta, ma va saputa, va saputa bene, va saputa bene, va saputa usare bene, e ci vuole un po' di luci, qualcuno dice, ma forse devi settare, è vero, settandolo forse le luci, potrebbero anche non esserci, però, dicevo, ritornando al discorso del gioco, il gioco, deve piacere, il gioco deve piacere, e non ci deve essere, non ci deve essere, come dire, non ci deve essere un paragone tra questo gioco e quello del calcio, sono due giochi completamente diversi, l'unico appunto che posso fare da un ex giocatore, quale sono stato io, di baseball, ovviamente molto ammatoriale, quello che manca, a mio avviso, è il controllo del giocatore che va da una base all'altra, mi spiego, quando io riesco a prendere bene la palla, e fare, non propriamente un fuoricampo, in quel caso lì, i giochi che sono a base, i giocatori sono a base, poi vanno, vanno a punto, ma quando io magari faccio un tiro, che mi permette, come ne ho fatti diversi, se non l'avete visto il video, se non l'avete visto, andatelo a vedere nella, non l'ho messo nella playlist di MLB, ma l'ho messo nella playlist dedicata ai giochi provati next gen, ho preferito mettere lì, perché poi non faremo altri giochi, o perlomeno non faremo altri video dedicati al baseball, almeno per un po' di tempo, però dicevo che sostanzialmente, non c'è la possibilità di controllare il giocatore che è a base, per poterlo magari fare andare, ora non so se da qui, ecco vediamo se io riesco a farvi capire, che cosa intendo, dal direttamente al gioco, ecco da qui ho preso la palla, ecco vedete qui da una parte ci sono i 3, dove c'è scritto 2ND, ecco io sono riuscito ad arrivare alla base, no non ci sono riuscito, perché mi hanno bruciato prima, ma a me so che ci riuscissi, devo fare le 3 basi, per poi arrivare a fare punto, ecco riuscire a controllare i giocatori, io nel momento in cui ho tirato, quindi stacco il controllo dal battitore, e magari riuscire a controllare i giocatori che sono sulle basi, questo sarebbe buono, ecco io ad esempio mi lancio, vedete io non vedo il mio mino dove va, il mio giocatore dove va, ecco quello sarebbe una cosa che secondo me, nel senso che se vedo che sostanzialmente la palla mi arriva al ricevitore, non scatto per andare all'altra base, invece qui in automatico scattano, e quindi molto spesso e volentieri, vengo diciamo, il mio arrivo alla base è preceduto dal ricevitore che prende la palla, e quindi sono fuori, ecco non so se mi sono, ecco questo è un piccolo appunto, ma insomma poi questo a livello di grafica, di gioco, ripeto, poi è tutto americano, quindi poi c'è tutta una serie di regole, se non le conosci non le apprezzi, ecco anche quest'anno lo possiamo giocare in club, questo è fondamentale, io l'ho giocato in club, vedete avendoci un'ottima, un'ottima connessione, non c'è, non ci sono scatti, insomma nemmeno che, sembra che io l'avessi scaricato, invece non l'ho scaricato, questa è un'ottima, come posso dire, un'ottima cosa che fa il buon Microsoft, ecco l'ultima cosa, ma non ultima, in fase proprio nella realtà, è che forse a livello anche di atmosfera, di stadio, di musica, questo è tutto ottimo, a livello di atmosfera, di stadio, non siamo a livelli di NBA, no, questo assolutamente, no, scordatevelo, quindi questo dovrebbe essere un pochino più marcato, gli manca un pochino quella cosa, e torniamo appunto a prima visione, o meglio in faccia intera, noi poi, e non può mancare, non può mancare lo stralcio di cosa è successo con il buon football, siamo appunto tornati dopo, non so quanto tempo, un po' tanto tempo in campo, siamo riusciti a fare una partita, poi io ne ho fatti altre due, vi dico già che ho superato, ovviamente, in maniera brillante, la nuova divisione è molto semplice, sto arrivando in settima, mi manca poco per arrivare in settima, e probabilmente ci sta che magari la vedremo la prossima puntata, magari che sono in settima, insomma, non lo so, vediamo un attimino, comunque sicuramente in settimana qualche altra partita si ci sarà, il faccione sarà di nuovo in campo, ho voluto provare il gioco, riprovare il gioco, perché io non l'ho mai lasciato, lo sapete, io sono comunque un fan di football, di football, a proposito, sotto trovate il collegamento al gruppo di Facebook, players, PES, c'è sempre la denominazione PES, PES per il periodo normale, qui io mi invito ad andarvi a iscrivervi, siamo più di 400, è un gruppo, ce ne sono tanti su eFootball, così come ce ne sono tanti anche su FIFA, tanti altri giochi, però è un gruppo che aveva molto senso prima, quando giocavamo con PES, adesso ha perso un pochino, però vorrei riaccendere la fiammella, che di fatto non si è mai spenta, ma si è un pochino più ammusciata, come dico io, ci sono sempre i soliti regali, ma andiamo un pochino veloce, andiamo alla partita, andiamo alla partita, vediamoci, questo era il nostro avversario, questo sono io, ho fatto debuttare Isaac, e poi Neymar, il biondo, quello che tra virgolette ci hanno regalato, un tridente composto da Messi, Neymar, Isaac, l'ho voluto provare, ma ragazzi lasciate perdere, o siete un fan di Isaac, ma questa carta veramente è ridiculus, c'ha un po' di brutta, tu sentite il mio canino, che si sta letteralmente arrabbiando, ma sono contento, perché vive, viene Mimì, 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 andiamolo, mi hanno spento la luce, probabilmente, si, mi sta dicendo che devo andare da lui, ora, ora lo smettiamo, ovviamente, chiudiamo la porta, così, perlomeno, allora, dicevo, questo appunto, ecco, questo è subito, il primo gol dopo un minuto, strepitoso, strepitoso, strepitoso Neymar, no, questo è Messi, strepitoso Messi, dopo un minuto, grande gol di Messi, insomma, partita subito in discesa, a dire vero, poi qualche bischerata l'ho fatta, ma comunque l'abbiamo portata a termine, e poi subito dopo l'ho fatta altri due o tre, insomma, sono avute una serie di vittorie, ma all'inizio è così, poi dopo il, siccome sui football, e questa è una riflessione che va fatta, che faccio spesso, e che lo faccio anche sui gruppi social a cui faccio riferimento, ripeto, PES, per premio normale, ma poi ce ne sono anche altri, il buone football, essendoci non tantissimi, diciamo, giocatori che vi giocano, e poi soprattutto non essendoci il cross play, cioè, pretendendo poter giocare, scusatemi se mi mi, diciamo, è più forte del, del, il suo abbaio è più forte del mio, ma è così ragazzi, i miei video sono così, anzi, chiudiamo, chiudiamo un attimino, se fa così, finiamo, finiamo il nostro discorso, dicevo, appunto, e football, non essendoci il cross play, quindi, Xbox con Xbox, PlayStation con PlayStation, non essendoci una parte così ampia come ad esempio su FIFA, quelli bravi sono sempre soliti, quindi, nelle categorie più basse, che però c'è più gente, l'avete visto, no? Quando accendete il gioco e andate su, sulla, sulla modalità dedicata, ma alle categorie più, più alte ci sono sempre i soliti, e quindi lì sono quelli più forti, quindi, arrivare alla terza, barra, quarta, più quarta che terza, non è che sia difficilissimo il suo futuro, vuoi perché hai una grande squadra, e vuoi soprattutto perché ci sono appunto giocatori un po' meno, un po' meno forti, gli occasionali, ecco, quindi gli occasionali, che possono avere anche loro dei grandi giocatori di squadra, ma poi di fatto non hanno una, come posso dire, una modalità del gioco tale da poterti impizzare, quindi, ce la diamo, ce la diamo, ecco, dalla terza in su, forse anche la quarta, ma più la terza in su, incomincia a essere il gioco più duro, e lì è molto più difficile, e dicevo, la settimana prossima, la settimana prossima andremo avanti sempre con, a me non spero ragazzi, io ci provo, poi se non ci riesco, ve l'ho detto mille volte, il lavoro è quello più impegnativo, poi sarà la settimana che anticipa la Pasqua, per la Pasqua appunto faremo un video dedicato, e poi magari qualche giorno, tra virgolette, di pausa, tipo lunedì di Pasqua, si sa che non siamo in onda con la, solita puntata di, di mafia, però appunto, settimana, la programmazione normale dovrebbe essere, due episodi di mafia, il lunedì e il venerdì, e poi martedì e mercoledì, due episodi, con quattro partite, quindi della serie A, del Como, e poi giovedì, vediamo cosa possiamo portare, se incominciamo la carriera, con Formula 1, Dumbo e la 22, oppure portiamo un altro titolo, con, sempre tra i giochi, del Game Pass, da provare, e questo un pochino, poi, oppure potrebbe essere, che giovedì lo dichiamo, a una partita di calcio, aspetto un attimino, a iniziare un'altra carriera, o meglio, un'altra serie, perché ragazzi, è molto impegnativa, per chi lo fa come me, in maniera, molto, 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 amatoriale, caricare, preparare un video, fare un po' di post-produzione, anche se, ad esempio, oggi ci vorrebbe un po' di post-produzione, perché c'è il cane che abbaiava, ma io la post-produzione, la faccio soprattutto per vedere, a parte sabato, che non l'ho fatta, se vista la cagata che è uscita, per vedere un pochino, quelle che sono le cose, da poter sistemare, con i vari software, che io utilizzo, ma, e ci vuole tempo, ed è, diventa quasi un lavoro, io ragazzi, questo, io lo faccio, per divertimento, non lo faccio, ovviamente, per appesantirmi, ulteriormente, il lavoro, che è già pesante, quello che faccio, quindi, io mi dispiace, alcune volte, magari alcuno dice, ma, potresti curare, avete ragione, in live non ci va, avete ragione, però, ragazzi, per andare in live, occorre tempo, perché devi fare una live, la devi fare a modo, poi, anche l'esperienza, tra virgolette, della Fabio TV, che era una bella idea, ma, al momento, è accantonata, perché, le live, le devi fare organizzando, le cose porti come argomento, non devi portare un argomento, che è da tutti portato, perché, altrimenti, non esci fuori, devi portare una chicca, e quindi, anche lì, però, vi prometto, che riusciremo, tanto torniamo, in prima, in prima immagine, vi prometto, che miglioreremo, sicuramente tutto, ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento, ai prossimi, ai prossimi, video, ripeto, domani, parleremo di football, con l'episodio dei 10, come sempre, domenicale, e poi lunedì, una puntatona, di Mafia 3, la versione, la standard, la versione definitiva, con Lincoln, che è sempre più alle prese, con, non vi ho fatto vedere, cosa è successo, ma, insomma, ho cercato di mettere, in questo weekly, un po', gli spezzoni, dei video più divertenti, o perlomeno, delle novità, quindi, il gioco di baseball, e il ritorno in campo, con la serie A del Como, e con i football, io, per quanto riguarda il weekly, vi aspetto a settimana prossimo, un saluto, ciao.